Oltre 400 pretesi, ma l'obiettivo è di arrivare a 600, parteciperanno alla manifestazione di sabato 7 giugno Rispetto per il lavoro, la democrazia e la Costituzione, organizzata a Roma dalla CGL, per ribadire il no all'utilizzo dei voucher. La nuova modalità di reintroduzione dei voucher addirittura contiene aspetti e determinerà effetti che sono peggiorativi rispetto alla precedente normativa. Naturalmente voglio dire che siamo distanti rispetto anche a quelli che sono i contenuti, le richieste che non avanzavamo Peraltro scordinavamo un eventuale nuovo intervento da parte del Governo, quantomeno ad un confronto preannunciato ma mai realizzato di fatto con le organizzazioni sindacali. Così non è stato, oltre al danno alla beffa, noi riteniamo che ci sia una lacerazione profonda della Carta Costituzionale e qui sta la ragione per cui valuteremo anche l'appello al Presidente Mattarella, perché è lui il garante della Carta Costituzionale e nonché un intervento tecnico che andremo a sollecitare nei confronti della Carta Costituzionale. L'appuntamento è per il 17 giugno alle 12 in piazza San Giovanni con la segretaria nazionale Susanna Camusso. Da piazza Falcone Borsellino sabato mattina alle 5 per ora partiranno 8 pullman, ma altri 3 sono ancora da riempire. Per prenotazione e informazioni contattare la CGL al numero 0574 45 92 66 52 oppure inviare entro giovedì l'adesione alla mail cgl-laprato.tosc.cgl.it